Robot, licenza di uccidere l'uomo Amici di Comodon Kishot, ben ritrovati con il Tecno Ribelle Automi omerici, golem per l'umanità Il testo è del 1950 Un robot è un robot Metallo e ingranaggi, elettricità e positroni Un cervello e una massa di ferro Una creazione degli uomini Che gli uomini possono distruggere se necessario Così io robot dal secondo dopoguerra Libro cult di Isaac Yudovich Asimov Pioniere del genere fantascientifico Padre delle tre leggi della robotica Che tra uomo e robot Umanamente scelse il primo Strizzando però l'occhio al secondo Perché macchina delinquere non potest 1. Un robot non può recar danno a un essere umano Né può permettere che A causa del suo mancato intervento Un essere umano riceva danno 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani Purché tali ordini non vadano in contrasto alla prima legge Riattualizzato 1984 dal 2020 Un po' come la narrazione distopica di Orwell Anche Asimov ha di fatto preconizzato i tempi Ma in ottica transumanista Se è vero che negli ultimi 70 anni dal metalloide Robby Oggi messia prometeico di Elon Musk Tra un ufo robot Goldrake e un gig robot d'acciaio Siamo finiti nella quarta rivoluzione industriale Senza praticamente accorgercene Come fosse un gioco, un cartone animato Nel 2016 l'Europarlamento si interroga Sulla possibilità di far pagare le tasse ai robot E solo l'anno dopo l'equiparazione tra robot e umano Finisce nel singolare status giuridico di persona elettronica Viatico per riconoscimento del robot Come essere sensiente Quasi come Lambda di Google Intelligenza artificiale cosiddetta sensiente Per il suo ingegnere dotata persino di un'anima Fin qui il limbo Il mondo di mezzo dove stringendo all'osso Il metallo non è né carne né pesce Solo che ora tra realtà aumentata Transistor e algoritmi Dalla California arriva la notizia Dello sdoganamento del mondo di sopra I robot possono uccidere In circostanze rare ed eccezionali Il democratico consiglio delle autorità di vigilanza di San Francisco Ha infatti approvato l'uso della robotica Come forza mortale Nella disponibilità del Parlamento di Polizia di San Francisco Agenti killer telecomandati da remoto Tutti muniti di esplosivi Esattamente come nel 2016 in Texas Quando Androx Mark VA-1 In un blitz uccise un cecchino a Dallas Come poi nel 2020 in Iran Dove un robot mitragliatore guidato da remoto in Israele Fece fuori un ingegnere nucleare Né più né meno Come l'intelligenza artificiale Già fa in guerra Con GNOME I robot di combattimento ucraini Sguinzagliati contro i militari nemici Una volta autorizzato questo tipo di utilizzo Riferendosi all'uso in ambito civile Può essere molto difficile tornare indietro E ancora Non si riesce a credere a quello che sta succedendo Questo tipo di strumenti Aumenteranno le disparità Nell'infliggere una forza mortale Alla comunità Il commento critico dei più attenti Osservatori americani Ai quali però deve essere sfuggita L'ultima invenzione di Palmer Lukei Fondatore di Oculus Assorbita da Facebook Per creare meta Ispirato al cartoon Sword Art Online Il padre della realtà virtuale Ha realizzato il casco VR Un visore per videogame Dove in caso di game over Cioè di perdere il gioco Delle piccole cariche elettriche esplosive Possono realmente uccidere il giocatore Nel più subito degli assiomi Se muori nel gioco Muori pure nella vita reale Elementare no? L'idea di legare la tua vita reale Al tuo avatar virtuale Mi ha sempre affascinato Dando appuntamento nel metaverso Dal suo blog scrive Il trentenne californiano Inventore pure di droni autonomi Alzi immediatamente la posta in gioco Al massimo livello E costringi le persone A ripensare radicalmente A come interagiscono Con il mondo virtuale È già facile Easy Ci dicono i visionari Della Silicon Valley Solo che se avete capito bene Qui non siamo in un film Di Spielberg Perché qui Macchina Delinquere Potest I robot L'intelligenza artificiale E la realtà virtuale Hanno davvero Licenza di uccidere Però non ditelo Al vice premier Matteo Salvini E' euforico dell'idea Di offrire il governo Meloni Alle innovazioni Di Elon Musk In fondo Dopo Klaus Schwab Tanto Zagenberg L'ha già ricevuto Mario Draghi Per approfondimenti E maggiori dettagli Vi rimando a Stop 5G Salute e ambiente Geopolitica Privacy Transumanesimo Controllo sociale Libro e inchiesta Sui lati oscuri Del futuro digitale Terra nuova edizioni Oppure sul sito Di aggiornamento naturale www.asisana.com Appuntamento Alla prossima puntata Del Tecno Ribelle E un caro saluto a tutti Da Maurizio Martucci Grazie a tutti A prestidio Grazie a tutti.